Arriva l'estate e con lei anche i divertentissimi centri estivi sportivi del CSI, Centro Sportivo Italiano, per bambini e bambine dai 3 ai 14 anni. Le attività si svolgono a Fano in diverse sedi, a Pesaro alla Scuola Don Milani a Villa San Martino. Tante attività come laboratori creativi e manuali e soprattutto tanto sport. I centri estivi si terranno dal 6 giugno per tutta l'estate. Iscriviti subito! La prima settimana è gratuita!